Francesco Lonati ha fondato l'azienda nel 45, nel 56 qui è stata lanciata la prima produzione importante nel mondo per le macchine calze. Oggi Lonati opera in 119 paesi del mondo e vendiamo dalle 7.000 macchine a 10.000 macchine all'anno. Qui a Brescia siamo in circa 600 persone, sono 80.000 metri quadrati di cui 24.000 coperti climatizzati ovviamente. Abbiamo queste quattro famiglie di macchine che sono macchine a monocilindro, doppio cilindro, donne e medicale. All'interno di questi modelli abbiamo 170 modelli. Per ogni modello di macchina abbiamo più di 100-200 opzioni. La forza è di garantire questi tempi di consegna di due mesi pur avendo tutti questi variabili e questa è grazie comunque alla produzione delle componentistiche all'interno dell'azienda e con le nostre macchine, le nostre officine interne, con le macchine Mazzac. Noi lavoriamo praticamente il cuore delle nostre macchine quasi totalmente internamente per garantire appunto risultati di qualità. Partiamo dai supporti di alluminio, cilindro, tutte le cam che determinano tutti i movimenti, quattro e cinque assi. Abbiamo 38 macchine Mazzac divisi tra verticali e cinque assi e orizzontali e quattro assi. Lavoriamo tantissimi acciari di tutti i tipi, lavoriamo poca ghisa per quello che riguarda basamento nonché tutti i supporti e parliamo di alluminio. Siamo azienda leader in assoluto e avevamo bisogno sicuramente di un partner all'altezza. Mazzac ci ha sempre soddisfatto come requisiti di precisione, di versatilità, di velocità, tutte caratteristiche che dobbiamo combinare assieme. Una macchina a cinque assi molto spesso mi permette di limitare il numero di posizionamenti, il numero di presa del pezzo che devo fare e conseguenza tempi diminuiscono, i costi diminuiscono e va tutto in funzione della qualità comunque. Le nuove generazioni di macchine innanzitutto hanno portato miglioramenti tempi ciclo soprattutto per velocità di cambi utensili e velocità di movimenti rapidi. Si evidenzia la parte di attrezzaggio visto che noi siamo soggetti a molti attrezzaggi, il fatto di avere tanti utensili è la cosa che aiuta principalmente, la comodità di avere un software dove tutte le macchine sono collegate in rete e tutta la programmazione che viene fatta in ufficio con un CAD CAM che è CTA viene trasmessa immediatamente alla macchina in tempo zero. La capacità del nuovo Smooth di elaborare tutti i dati e tutta la programmazione che è piuttosto complicata in tempi brevi ha sicuramente velocizzato tutti i tempi ciclo di tutte le lavorazioni. Noi abbiamo sempre seguito la politica di fare tutte le attrezzature in casa perché appunto conoscendo il prodotto conosci le criticità e visto che Mazzac ci è anche venuto incontro su queste cose abbiamo sempre customizzato le macchine con attrezzature nostre dedicate sempre nello specifico del prodotto. Noi lavoriamo per noi stessi in molti casi quello che produciamo oggi serve le linee di montaggio il giorno successivo o due giorni successivi perciò non abbiamo margini d'attesa o tempi per cui possiamo aspettare Mazzac in questo ci ha sempre aiutato nel senso che quando c'è necessità di avere tempi di intervento brevi li abbiamo avuti sicuramente professionalità degli operatori capace e l'assistenza Mazzac è assolutamente più che funzionale